Eccoci qua, buonasera, il telegiornale parte questa sera dalla legge elettorale, ancora una volta, perché c'è un fatto nuovo questa mattina su tutti i giornali, le perplessità, il dubbio che tutto fosse rimesso in discussione per le divisioni all'interno dei 5 Stelle, divisioni che evidentemente c'erano, se Grillo ha sentito il bisogno di una presa di posizione definitiva sul suo blog, non si discute l'accordo sulla legge elettorale tedesca con sbarramento al 5% perché è stata votata quella legge online, quella ipotesi di legge online dagli iscritti e quindi per il movimento non è toccabile. Quindi semmai la palla si rilancia a chi dalle altre parti, i contraenti, vuole fare delle modifiche. L'impressione è che la trattativa sarà ovviamente tutt'altro che facile perché ognuno metterà sul tavolo le sue carte, ma resta l'impianto di fondo, cioè l'accordo che potremmo definire Grillo-Renzi-Berlusconi su due punti precisi, proporzionale con sbarramento al 5% ed elezioni subito dopo l'estate. Vedremo, ma intanto nel mondo si parla soprattutto di Trump. Ieri sera, ve l'avevamo anticipato già l'altro ieri sera in apertura del telegiornale, ieri sera alle 9 Trump ha effettivamente annunciato che gli Stati Uniti si ritirano dal trattato di Parigi sul clima. Nel giro delle ore successive, ieri sera, ci sono state la presa di posizione congiunta durissima, per noi il trattato resta valido, firmata dai premier di Germania, Italia e Francia, e poi da parte di Emmanuel Macron, il neopresidente francese, una dichiarazione in inglese, non a caso in inglese, in cui il Make America greater again, che è stato lo slogan elettorale di Trump, veniva ribaltato nel Make our planet greater again, cioè invece che fare l'America più grande ancora, fare il nostro pianeta più grande ancora, più vivibile quindi, ed è chiaro il rivolgere agli Stati Uniti il problema in una logica globale, che dovrebbe essere interesse comune, come hanno dimostrato gli europei oggi con la Cina, con una presa di posizione comune che impegna sia il nostro continente, sia la più grande nazione del mondo, che è anche la più inquinata a rispettare comunque quel trattato. Ma c'è molto altro, ci sono molte altre vicende, ieri sera Manila nel corso del telegiornale, le notizie che arrivavano, ci sono stati 38 morti in quell'assalto a quel resort nella capitale delle Filippine, però le forze di polizia dicono è stato un attacco forse di un uomo malato di mente, non era un caso di terrorismo, eppure la rivendicazione dell'Isis è stata riconfermata anche oggi. Ci sono altre vicende, nella parata del 2 giugno ai fori imperiali a Roma, anche i sindaci con fascia tricolore dei comuni terremotati, andremo al di là della parata a vedere in quegli stessi comuni com'è la situazione in questa giornata, che è la giornata della festa della Repubblica e quindi anche delle sue autonomie locali. Vedremo altro, anche un boss d'Indrangheta che è stato trovato a casa sua, era ricercato in tutto il mondo da 23 anni, ebbene quando è uscito in manette c'è stato chi si è avvicinato per fargli il baciamano. Ma vedremo anche, faremo in tempo a vedere anche la vigilia di una partita così importante, com'è la finale domani Champions League, Juventus, Real Madrid. 30 secondi i titoli. Sul clima, dopo il no, arrivato agli Stati Uniti all'accordo di Parigi, l'Unione Europea, dalla Merkel a Macron a Gentiloni, va avanti insieme alla Cina, con impegno a rispettare gli accordi presi. Solo Putin è prudente, non voglio giudicare, Trump dice, ma la Casa Bianca è convinta che la mossa serva a difendere gli interessi americani. Resta misteriosa la vicenda dell'assalto di ieri sera a Manila, ha fatto come sappiamo 38 morti, è stato rivendicato dall'ISIS, eppure la polizia dice che si tratta solo dell'azione di un criminale comune, forse malato di mente. C'erano anche i sindaci dei comuni dell'Italia centrale, colpiti dai terremoti dello scorso anno a sfilare ai fori imperiali di Roma con altri primi cittadini per la festa della Repubblica. L'emergenza continua, le casette consegnate agli sfollati sono poche e ora vanno abbandonati gli hotel della costa perché inizia la stagione turistica. Incredibile ma vero, baciamano per il boss dell'Andrangheta appena arrestato, è accaduto in Calabria, a San Luca, uno dei comuni a più alta concentrazione di Andrangheta, dopo l'arresto di Giuseppe Giorgi, uno dei cinque latitanti più pericolosi, catturato nella sua abitazione mentre era ricercato in tutto il mondo. Buonasera, ieri sera vi parlavamo della legge elettorale soprattutto perché c'era quella sorta di resa dei conti tra PD e i Alfagnani, l'ex nuovo centrodestra che adesso si chiama alternativa popolare. Ma in serata erano emerse proprio ieri delle nuove perplessità, dei dubbi che da parte di Renzi e di altri venivano attribuiti ai Cinque Stelle e non per sbaglio perché una serie di dichiarazioni di Paola Taverna e poi anche di Roberto Olfico che è Presidente della Commissione parlamentare sulla RAI e un esponente di spicco tra gli eletti dei Cinque Stelle avevano effettivamente mosso critiche al sistema tedesco, cioè quello più propriamente del proporzionale con la soglia al 5% e in realtà la scelta dei candidati. Tanto che questa mattina si è avuta la conferma che c'erano dei dissensi interni per il fatto che è stato esplicitamente Beppe Grillo a tacitarli con una presa di posizione molto ferma sul suo blog. Attenzione che quel sistema detto tedesco, quel sistema del proporzionale con lo sbarramento al 5% è quello che è stato qui su questo blog votato online dai nostri iscritti e quindi non si tocca. Sulla legge elettorale hanno già deciso gli iscritti, con un posto molto netto Beppe Grillo blinda sul blog all'accordo con PD e Forza Italia sulla riforma simil tedesca e sul voto anticipato in autunno che sembra incluso nel pacchetto. Il leader dei Cinque Stelle mette il punto a divisione e dubbi e Omega Porcellum aveva provato a dare lo stop Paola Taverna, l'accordo non è scontato, tirava al freno Roberto Fico. Il modello tedesco è stato votato dal 95% dei nostri iscritti. I portavoce del Movimento devono rispettare questo mandato, ribatte duro al fondatore. L'importante a far rispettare il nostro metodo è avere una legge costituzionale. Il Movimento chiede di andare al voto dal 4 dicembre, non ci interessa garantire la rielezione di questo o quell'altro portavoce. È la risposta ai mal di pancia di tanti parlamentari. Bene anche la predominanza dei listini proporzionali sui collegi uninominali, il punto che viene criticato perché si traduce in un Parlamento di nominati. Noi abbiamo le parlamentari e non servono le preferenze, ribadisce Grillo. Si cercheranno di inserire correttivi come un premio di governabilità contro gli inciuci e insiste il deputato Toninelli un no alle pluricandidature. Entro domattina vanno presentati gli amendamenti in commissione a fare i costituzionali della Camera, ma la strada dell'intesa sembra tornare in discesa. Si era complicata nelle ultime ore proprio per le frenate tra i Cinque Stelle. Se ci ripensano salta tutto, aveva temuto Renzi, ipotizzando che il movimento di Grillo volesse ostacolare la corsa verso il voto anticipato. Ma già stamattina, prima che uscisse il posto di Grillo, la sottosegretaria Boschi ostentava ottimismo. Grillo, buon segno, sintetizza Ettore Rosato. Gli orlandiani polemizzano temendo l'eccesso di potere di Renzi sulle liste. È un mini porcellum in finta salsa tedesca boccia Vannino Chiti. Il ritorno al proporzionale viene stigmatizzato dal fondatore del PD Walter Veltroni. Un ritorno al passato, agli anni 80, il PD è nato per la democrazia dell'alternanza contro gli accordi fatti dopo il voto e la prospettiva di un governo con Forza Italia alimenterà la protesta. Peggio della Prima Repubblica, dove almeno si potevano scegliere i parlamentari, attacca Enrico Letta e Arturo Parisi, fondatore con Prodi dell'Olivo. Suona la fine di un ciclo politico, scegliendo un verso di Ungaretti. È il mio cuore il paese più straziato. I centristi di Alternativa Popolare, gli alfagnani che accusano Renzi di tradimento, così come Fratelli d'Italia e la sinistra bersagnana di Articolo 1, protestano contro il patto dei più forti, una legge della giungla. Incredibile l'appoggio dei Cinque Stelle al patto PD Forza Italia. Un irco cervo, un grill a Renzoni, lo chiama Fabrizio Cicchitto. Grillo decide che l'ultima parola sulla legge elettorale c'era il blog e non i parlamentari. Una cosa è certa, sostiene Arturo Scotto. Di rifa o di raffa decide sempre lui. Bella la democrazia della rete, che fa rima con la democrazia del capo. Ma resta il fatto che se ci sono i sì dei tre principali partiti e movimenti è chiaro che c'è una maggioranza. Se non ci fosse allora il gioco politico diventerebbe molto molto diverso. Questa è la questione che fa l'apertura per quanto riguarda i fatti italiani. Ma poi c'è l'altra questione, quella pesantissima del voltafaccia americano sul clima. Un voltafaccia, ben inteso, che Trump aveva preannunciato già in campagna elettorale. Se sarò eletto rimetterò in discussione l'accordo di Parigi siglato da Obama. Ma un conto è ovviamente minacciarlo, un conto è vederlo verificare da subito, perché questo mette a repentaglio quelli che sono obiettivi comuni e la necessità del pianeta di combattere i rischi climatici e di inquinamento. Il fatto è che c'è una divaricazione fortissima. Pochi minuti fa il capo dell'Agenzia per la difesa dell'ambiente americano, Scott Pruitt, ha riconosciuto che le attività umane contribuiscono in qualche misura al cambiamento climatico, ma che è difficile misurarne l'impatto. Quindi ha monito sul rischio di esagerazioni nel valutare l'incidenza dell'attività umana sul riscaldamento globale e ha definito l'accordo di Parigi un mucchio di parole con benefici minimi sull'ambiente. Ma se fossero minimi evidentemente non ci sarebbe tutto questo problema. Iniziamo se possibile a vedere cosa si è detto negli Stati Uniti, cosa ha detto Trump e poi vediamo quelle che sono state le reazioni internazionali, soprattutto europee. La più forte, ve lo preannuncio, quella di Macron, presidente francese. 25 anni per trovare un'intesa sul futuro del pianeta e sei mesi per smontarla, tornando al passato. Con effetto immediato gli Stati Uniti si ritirano dall'accordo di Parigi sul clima siglato da 196 nazioni nel 2015. Donald Trump in campagna elettorale l'aveva promesso, ieri l'ha mantenuto con una decisione che mina alle fondamenta il protocollo ambientalista, visto che dopo la Cina sono proprio gli Stati Uniti il secondo paese più inquinante e senza di loro le misure previste per tagliare le emissioni nocive si indeboliscono fortemente. L'America è tornata e non accetterà più accordi che vanno contro i suoi interessi, ha annunciato ieri alla Casa Bianca il presidente. Il programma negoziato da Obama fissa obiettivi irrealistici per noi, ha detto. Altre nazioni, Cina in testa, continuano invece a produrre co-standard ben più elastici. I danni per la crescita e il lavoro sono stati valutati dai consiglieri dello studio ovale in 3.000 miliardi di dollari che il PIL americano potrebbe perdere nei decenni a venire. La Casa Bianca punta quindi a rinegoziare i termini del piano mondiale anti-emissioni a partire da oneri e impegni suddivisi più equamente tra le nazioni aderenti se ci riusciremo bene, altrimenti pazienza. Ha concluso Trump sulla svolta drastica. Anche la sua cerchia più ristretta si sarebbe spaccata. Gary Cohen, supermanager di Goldman Sachs, oggi capoeconomista, ed il segretario di Stato Rex Tillerson, ex numero uno della Exxon Oil, erano contrari. Oggi Tillerson tenta di rassicurare che l'America rispetterà la sua vocazione ecologista, ma a passare è stata la linea ultraconservatrice del capo dell'Agenzia per la protezione ambientale Scott Pruitt, da sempre vicino ai petrolieri d'oltreoceano. L'accordo di Parigi, siglato dopo lunghissimi negoziati cominciati con il protocollo di Chioto, fissa l'impegno a ridurre la produzione di ossido di carbonio il più presto possibile per arrivare a mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 2 gradi centigradi in più rispetto ai livelli preindustriali. Una clausola prevede che l'intesa non diventerà vincolante fino a quando almeno 55 paesi che producono oltre il 55% dei gas serra non l'avranno ratificata la decisione americana da sola non basta a far saltare tutto ma potrebbe dare il via ad altre defezioni importanti per uscire dai programmi già avviati. Ci vorranno comunque almeno quattro anni e potrebbe allora essere nel 2020 il prossimo presidente americano a dover dire l'ultima parola. Questo è quello che si dice da New York e da Washington, ma cosa si è detto dall'Europa? Oggi c'era l'incontro tra europei, dell'Unione Europea e Cina, non c'è stato l'accordo finale per motivi economici, sulle questioni economiche, nel riconoscimento della Cina come libero mercato è ancora difficile da digerire visti i dati obiettivi, ma sul tema del clima c'è stato un asse molto forte, noi si tira avanti. Vi ho detto però che già da ieri sera le parole più chiare sono state pronunciate in due occasioni, un documento scritto e firmato dai tre premier di Italia, Francia e Germania insieme, ma soprattutto le parole in inglese del presidente francese Macron. Giudizi allarmati, parole grosse, con Emmanuel Macron, neopresidente francese, che dopo aver espresso ieri in una nota congiunta, insieme ad Angela Merkel e Paolo Gentironi, il rammarico per la scelta americana usa lo slogan, mantra di Donald Trump per rispondere alla sua presa di posizione sul clima, make our planet great again, serve condivisione per fare nuovamente grande il pianeta e non solo l'America. Si allarga sempre più il fronte contro Donald Trump per la scelta di non diminuire come da accordi presi le emissioni di gas nell'atmosfera. Reazioni importanti, preoccupate, dal Vaticano parla il cancelliere della pontificia Accademia delle Scienze, Monsignor Sanchez Sorondo, secondo cui la decisione di Trump è un disastro per il pianeta e l'umanità. L'Europa prenda la guida, il mondo è una casa comune, dichiara in un'intervista l'alto prelato, Unione Europea, che con Pechino ribadisce la nascita di un fronte comune che rispetti l'accordo di Parigi, pur non siglando alcun patto ufficiale oggi a Bruxelles. Questo perché alla Cina non è stato riconosciuto l'accesso allo status di economia di mercato. Abbottonato da Mosca è votato all'ottimismo Vladimir Putin che ieri bollava come defunto l'accordo in assenza della parte americana, secondo paese più inquinante del pianeta dopo la Cina. Non lo giudico, dice oggi il presidente russo, ma dobbiamo trovare un accordo con Trump ed il tempo non manca. Dall'Italia il ministro per lo sviluppo economico calenda è categorico sull'argomento. Quando i patti si chiudono, si chiudono. Andiamo avanti con l'applicazione dell'accordo. La decisione americana è un errore, non solo per l'ambiente, ma anche per l'innovazione tecnologica. E si fanno sentire anche le prime associazioni di oncologi che non usano mezzi termini. Nella loro critica arrivata in queste ore dal congresso mondiale di categoria in corso a Chicago, quello di Trump è un attacco alla scienza. I casi di tumore sono destinati ad aumentare e visti i tagli alla sanità che Trump ha applicato nel suo paese, sarà più difficile garantire sia la ricerca che la cura. Sono giorni importanti anche per l'Europa, del resto siamo ormai arrivati a nove giorni dalle elezioni francesi, le elezioni legislative, quindi parlamentari francesi, ma soprattutto siamo arrivati a sei giorni dalle elezioni britanniche. E lì si sta ormai operando quello che era un impensabile ricongiungimento nei sondaggi tra i conservatori di Theresa May e i laburisti di Jeremy Corbyn che tra l'altro hanno avuto oggi l'endorsement, come si dice, l'esplicita dichiarazione virtuale di voto favorevole da parte del Guardian, uno dei giornali più importanti. Ciò che a sua volta sarebbe stato difficile da immaginare soltanto pochi mesi fa. Lì saranno elezioni importantissime. E poi c'è il tema del terrorismo, perché come sappiamo la Gran Bretagna e Manchester sono stati sfregiate proprio da un atto di terrore non tanti giorni fa. Dopodomani c'è il grande concerto di Manchester, ma come influirà tutto questo sulle urne? Certo che il terrorismo l'abbiamo visto, ha continuato a colpire. L'altro ieri a Kabul, ieri nelle Filippine, a Manila, nella capitale. Già, ma che terrorismo è stato? Perché la polizia tende a minimizzare, mentre sul tappeto anche la rivendicazione dell'ISIS. Di sicuro ci sono stati 38 morti. Da ciò che è emerso dalle prime indagini della polizia non ci sono prove che si sia trattato di un attacco terroristico, piuttosto sembra un atto criminale, compiuto da un individuo che potrebbe avere disturbi mentali. Ernesto Abella, portavoce del presidente Duterte, nega che dietro il massacro di ieri a Manila ci sia la mano dell'ISIS, anche se il sedicente califato continua a rivendicare l'attacco al grande ressort che si trova vicino all'aeroporto della capitale filippina. Di certo c'è che sono morte 38 persone, tutte soffocate dal fumo causato dall'incendio appiccato da un uomo che avrebbe tentato di rapinare il casino. Le telecamere di sicurezza hanno filmato una persona sola armata ad un fucile d'assalto. La ricostruzione della polizia aggiunge che aveva con sé due taniche di benzina. L'uomo, di cui ancora non si conosce il nome, sarebbe entrato nella grande sala da gioco sparando sui monitor e sulle slot machine, mai sulle persone. Poi avrebbe rubato fish per un valore di 2 milioni di euro. Infine avrebbe dato fuoco alle coperte della stanza dell'albergo dove si era rifugiato, morendo carbonizzato. L'incendio ha scatenato il panico tra la folla che, fuggendo, si è accalcata. Qualcuno si è lanciato dalle finestre. Le 38 vittime sono rimaste intrappolate e ritrovate asfissiate dopo diverse ore. Secondo la polizia filippina, l'uomo aveva disturbi mentali, forse seri problemi col gioco d'azzardo. Eppure l'Isis ha subito messo la firma sull'attacco e ha continuato a farlo. Potrebbe essere un modo per tenere alta la tensione a livello internazionale, mentre sul terreno tra Raka e Mosul i miliziani in nero sono in seria difficoltà. Secondo il presidente Duterte, starebbero cercando di attrarre seguaci nell'isola di Mindanao. Da anni fu un'estata dagli attentati dei gruppi jihadisti di Abu Sayyaf e Maute. Da settimane è in corso una guerra tra l'esercito filippino e gruppi di insorti che si ispirano all'Isis. Hanno messo sotto assai di una città, Maravi, rimasta senza acqua ed energia elettrica. Sono morte 160 persone, molte sono ancora in ostaggio dei combattenti. A Mindanao, Duterte ha inviato rinforzi e proclamato la legge marziale. Oggi lo sapete e forse l'avete vissuto, è giorno di festa, la festa della Repubblica. Non rendiamo tutto rituale o burocratico, è una festa importante. È stata la nostra possibilità di scegliere la forma istituzionale. A pochi popoli è stato dato in questo modo, di andare alle urne per referendum, per decidere qualcosa di decisivo. Monarchia o Repubblica in quel caso. E oggi quindi la parata. Ma non vi vogliamo parlare della parata militare, dei fori imperiali, delle frecce tricolore, che pure vedremo per qualche istante. Ha di una partecipazione che ha un significato e che ci serve come spunto per andare a vedere come stanno le cose nei paesi colpiti pochi mesi fa dal terremoto. Nella giornata tricolore per eccellenza con le frecce che disegnano in cielo la bandiera mentre il capo dello Stato rende omaggio al milite ignoto all'inizio della parata della festa della Repubblica. Ci sono anche loro i primi ad apparire sulla via dei fori imperiali. Indossano con fierezza le fasce tricolore il segno di appartenenza a terre piegate ma ancora in piedi. Sono i sindaci dei comuni colpiti dal sisma a sfilare fianco, a fianco e colleghi di altre città. Rappresentano la volontà di ricordare a tutti che ci sono anche loro a più di nove mesi dalla prima terribile scossa ad agosto. Fino a stamani ne sono seguite migliaia interi paesi e borghi distrutti come quello di Arquata del Tronto, uno dei comuni più colpiti. C'è anche il primo cittadino a sfilare tra gli altri a Roma. Io ho ritenuto opportuno essere qui presente ma subito dopo la parata ritornerò tra le mie macerie. Non vi sentite abbandonati insomma? In questo momento non abbandonato, un po' trascurate forse. Nelle ore della festa a Roma proprio a pochi passi da quel che resta nel paese di Arquata del Tronto stanno per essere ultimate le prime soluzioni abitative temporanee di tutte le marche, la regione che ne ha più bisogno. 26 casette che dovrebbero essere pronte entro massimo una ventina di giorni, 4.000 le casette richieste. All'inizio del sisma oggi solo 151 quelle ultimate a Norcia e Cascia per le altre. In alcuni casi occorrerà attendere fino a ottobre. Per questo chi non ha usufruito del bonus per l'autonoma sistemazione vive ancora negli alberghi della costiera adriatica. Nel mese di maggio per l'arrivo dei turisti più di 450 persone provenienti soprattutto dai comuni fantasma di Visso, Castel Sant'Angelo sul Nere e Ussita sono stati costretti a cambiare hotel o residence. A giugno la situazione potrebbe ripetersi. A San Benedetto del Tronto non sono ospitati solo gli sfollati delle marche ma anche diverse famiglie provenienti dal Lazio come questo signore Dilli che ha frazione di accumuli completamente distrutta. E in questo albergo da settembre tra poche ore dovrà trasferirsi in una struttura non lontana da qui. In attesa che gli venga consegnata la sua casetta dovrebbe accadere entro la fine del mese. Io adesso mi sposto, vabbè, tanto tanto di cappello per quanto riguarda grazie per l'ospedale e tutto quanto, però sai che significa rimettere tutto insieme, capito? Spostarti e poi sicuramente fra 15-20 giorni o è meglio tenere tutto dentro le valigie oppure, capito, rimettere tutto dentro l'ammatio. Però non sai quando torni a casa, se c'è una casa. A giugno saranno quasi 400 le persone che dovrebbero essere ricollocate in altre strutture nell'attesa che arrivino soluzioni meno temporanee. Ora parliamo di un'immagine che è brutta da vedere, perché bisognerebbe esultare quando lo Stato riesce ad acciuffare un latitante pericoloso, quando è un boss della criminalità organizzata. Vedere l'arrestato che riceve il baciamano di qualcuno non è certo ciò che fa più rendere orgogliosi della terra in cui questo avviene, con tutto il rispetto per i cittadini per bene anche di quella zona. È successo a San Luca dopo l'arresto, la cattura di uno dei latitanti più pericolosi che veniva cercato, pensate, da 23 anni in tutto il mondo ed era a casa sua. Ecco l'uscita del super latitante dopo l'arresto. È stato appena catturato a casa sua in manette scortato dai carabinieri. Esce dal portone e fuori c'è un piccolo capannello di tifosi, amici e vicini che lo salutano deferenti. Qualcuno riesce ad avvicinarsi e a baciargli la mano. Omaggio che si riserva ai boss di rango, segno di rispetto e sottomissione. Lui è Giuseppe Giorgi, detto la capra, 56 anni, considerato capo della famiglia Romeo, drina di San Luca che controlla il territorio a Reggio Calabria e dintorni. Era nella cinquina dei latitanti più pericolosi d'Italia. L'hanno trovato nascosto nel camino di casa sua, non lontano dalla stazione dei carabinieri nel centro di San Luca, cuore pulsante dell'andrangheta. I carabinieri l'hanno scovato dopo sei ore di perquisizione. Era dentro la cappa, in un intercapedine bunker parallela alla canna fumaria costruita apposta come nascondiglio d'emergenza con tanto di meccanismo elettronico per l'apertura e la chiusura. Condannato a 28 anni per droga e altri reati, accusato da un pentito di traffico di sostanze radioattive e dell'affondamento della cosiddetta nave dei veleni, Giorgi aveva fatto perdere le sue tracce dal 1994, 23 anni, quasi mezza vita e latitanza. Forse non ha mai lasciato la sua zona, dice oggi il procuratore di Reggio, Caffiero De Rao. Da qualche giorno gli investigatori avevano avuto un'informazione sicura, una dritta. Giorgi sarebbe passato a casa. Così è scattata l'operazione alle tre di notte. Per scovarlo sono stati rotti i pavimenti e i muri della casa. Da un vano dietro una parete sono saltati fuori 157 mila euro in banconote di grosso taglio. Poi smuovendo dentro il camino è spuntato il piede. Sono qua, ha detto il boss una volta scoperto. Bravi mi avete preso e Docile si è fatto mettere le manette. Poi all'uscita il rito del baciamano. Cardiff è la capitale del Galles ma domani sarà la capitale del calcio europeo. Il fatto è che Juventus-Real Madrid, partita attesissima e tutti gli italiani spero facciano il tifo per la Juventus. È anche una città del Regno Unito che ha vissuto proprio poche settimane fa, lo ricordavo prima, un attacco terroristico durissimo. Per questo le misure alla vigilia del match, più di 100 mila persone come stiamo per sentire, stanno arrivando a Cardiff. Le misure, dicevo, sono le massime possibili. Lo shopping in un centro commerciale, un concerto, una partita di calcio. I nostri divertimenti sono cambiati. Sono cambiati dopo Parigi, dopo l'attacco dell'Isis allo Stade France durante l'amichevole Francia-Germania nel novembre di due anni fa, quando la capitale francese fu devastata dalla violenza e dalla morte. Il terrore pian piano si è fatto strada nella nostra razionalità, tanto da trasformare un luogo affollato in un potenziale pericolo. Non sfugge a questa logica nemmeno l'appuntamento di domani a Cardiff, la finale di Champions League fra Juventus e Real Madrid. L'apice, il fatto più importante che l'Europa del calcio possa esprimere, per questo l'attenzione è altissima. I manifesti e gli allestimenti degli sponsor invitano alla serenità e alla spensieratezza, ma tutto ciò stride con il piano di sicurezza messo a punto per questa finale. La prima, che si disputerà sotto un tetto, quello del Millennium Stadium e non sotto le stelle, perché la ferita degli attentati alla Manchester Arena al concerto di Ariana Grande è ancora viva e alimenta la paura di un attacco terroristico dal cielo. Verranno impiegati 1500 agenti. Il castello di Cardiff, imponente attrazione turistica, riaprirà solo domenica ai visitatori. Sono stati studiati percorsi separati per i tifosi che seguiranno la partita nei pub del centro e quelli che andranno allo stadio. Molti locali pubblici hanno potenziato la sicurezza privata. Si entra al ristorante solo dopo un'accurata perquisizione di persone e zaili. Del resto, in una città di neanche 350.000 abitanti, arriveranno 175.000 persone solo per il match. Fra TV, carta stampata e fotografi, ci sono oltre 2500 giornalisti accreditati. Il mondo guarda una partita e il mondo teme che non ci sia in palio solo una coppa. E mentre le squadre in questi minuti si allenano, i servizi segreti di molti paesi e il presidio di migliaia di uomini cercano di rendere Juventus-Real Madrid solo l'apoteosi del calcio. Allora, dopo di noi c'è otto e mezzo e gli ospiti di Gruber sono Vittorio Sgarbi, Tommaso Cerno, Anna Falcone. Tra poco. Nonostante la festività del 2 giugno c'era la borsa aperta, anche se con scambi veramente rarefatti, è chiuso praticamente invariata con un meno 0,04. In pieno svolgimento invece le contrattazioni a New York, a Wall Street, il Dow Jones guadagna lo 0,27, il Nasdaq un po' di più, lo 0,83%. È tutto, ci vediamo domani sera a linea a Lilly Gruber. Buonasera.